ciao ragazzi e oggi vediamo insieme del little big workshop senza il day si chiama soltanto little big workshop questo gioco praticamente dovete avete una piccola fabbrica inizialmente un negozietto e dovete ricevere vari ordini e costruire alcune cose consegnarle e così farete i soldi e poi dovrete ampliare la vostra fabbrica o il vostro workshop come qui lo chiama iniziamo dicendo che questo gioco lo potete trovare in varie lingue come potete vedere qua è molto comodo perché trovate le varie lingue qua a destra in alto vedete che ce ne sono veramente parecchie e soprattutto c'è la lingua italiana per fortuna quindi giocheremo ovviamente in italiano iniziamo a vedere allora facciamo una nuova partita qua ti chiede il nome della fabbrica e lo chiamiamo nell'irfa shop va quindi ok iniziamo ora caricherà velocemente il gioco speriamo ok le sfide sono contratti esclusivi di difficoltà maggiore rispetto ai normali contratti del mercato che offrono ricomporse più allettanti quindi premiamo un nostro tasso per poter iniziare e questa piccolissima fabbrichina o negozietto è il nostro allora possiamo muovere sia col mouse o coi tasti vedete che allora adesso andremo a fare il tutorial e qua c'è il telefono che squilla quindi rispondiamo dunque e la ho appena aperto un nuovo negozio vicino alla tua fabbrica dato che sei di nuove di queste parti pensavo che potremmo aiutarci a vicenda che ne dici procurati un banco da lavoro e preparati potrei avere presto bisogno di te quindi dobbiamo preparare il nostro primo bancone di lavoro andiamo qua nella base e ragazzi vado a togliere un attimo qua la questo così vedete meglio il gioco e praticamente qua possiamo ordinare il nostro primo bancone quindi vedete qua abbiamo i vari banchi hanno il segno del lucchetto questo significa che alcuni ancora non li possiamo andare a sbloccare e lo andiamo a mettere in questa posizione possiamo mettere dove cavolo vogliamo però diciamo che lo andrò a mettere qua ok ora in questo a questo punto abbiamo deciso di comprare ed acquistare questo bancone e quindi ci arriverà il camion delle consegne e ci consegnerà il pacco per poter poi con l'interno i vari pezzi del mobilio e dovremo poi costruirlo ecco qui il tipo arriverà qua ce lo posizionerà ok possiamo anche scegliere poi la velocità del gioco nel senso di farlo andare un po più velocemente perché sono abbastanza lenti se no ci siamo fino a domani ecco qua il tipo che arriva e dovrebbe costruire il bancone ed ecco qui il nostro primo bancone però c'è ancora la chiamata la chiamata in arrivo allora vedo che è un banco da lavoro il mio stock di ignomi da giardino sta per esaurirsi puoi realizzarne qualcun altro quindi dovremo andare a questo punto a realizzare per questo strano tipo degli ignomi da giardino accettiamo questa missione dunque qua ci fa vedere l'ognomo di legno pianifica la realizzazione di questo prodotto quindi andiamo al piano questa è una unità pianificazione fondamentale per il progettare e organizzare nei minimi dettagli la realizzazione dei tuoi prodotti quindi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare qua ci spiega che dobbiamo utilizzare dei nodi quadrati come questi rappresentati rappresentano prodotti o parti dalle umili assi di legno alle sottunità più complesse ok i nodi circolari come questi quindi questi qua rappresentano operazioni ovvero le azioni compiute dai tuoi lavoratori alle varie postazioni ok e questo è il prodotto finale ok quindi i nodi operativi rincessano di una postazione di lavoro per essere portati a termine va bene allora a questo punto noi abbiamo detto che qua il nostro aiutante diciamo qui deve andare a quel bancone lì quindi adesso possiamo eseguire abbiamo detto che il tizio ci aveva ordinato tre gnomi quindi qui abbiamo messo i tre ok e andiamo esegui quindi in teoria adesso questo qua dovrebbe arrivare col camion intanto ci dice di assegnare un'area deposito per i tuoi materiali ok andiamo a mettere qua ok perché questi ci consegneranno i tronchi di legna che avevamo visto prima precedentemente perché per fare questi qua i gnomi abbiamo bisogno di questi tronchetti di legno già uno è stato realizzato sono stati molto veloci ok allora e adesso possiamo andare a consegnare sono finiti i nostri tre gnomi e li andiamo a consegnare il camion è arrivato alla piattaforma di carico ok così andiamo a caricare il nostro chiamencino che dovrebbe consegnarlo al tipo dunque accede al tuo ripirico finanziario andiamo a vedere qua e praticamente qua tutto quello che andiamo a spendere eccetera eccetera comunque è appena arrivato il carico di gnomo di legno ha un aspetto fantastico la gente ne va pazza spero che faremo altri affari insieme in futuro e quindi ci ha pagato 3.150 e abbiamo ottenuto 3.375 di esperienza ottimo direi e quindi possiamo andare a chiudere però ancora squilla il nostro telefono gigante allora è ancora lui sono sempre io i nuovi gnomi sono spettacolari mi piacerebbe vederne degli altri potreste realizzare degli scaffali dove esporli? quindi adesso dobbiamo andare a fare non più gli gnomi ma degli scaffali per questo signore ok accettiamo la missione e a questo punto dobbiamo fare la pianificazione che la pianificazione è poi la parte più antipatica quindi vediamo qua dice gli attributi indicano la qualità del tuo prodotto ok questo è il contratto ha dei requisiti per gli attributi ok è un po' più complicato da capire dunque qua ci lampeggia e dobbiamo impostare i materiali come potete vedere questo è un materiale con lo sfondo rosso quindi non possiamo andarlo ad utilizzare quindi per forza dovremmo scegliere lo scaffale di tipo di ok poi qua andiamo a mettere il materiale e anche qua che lampeggia ci aiuta perché stanno lampeggiando andiamo a mettere l'altro materiale a questo punto dobbiamo cliccare su questi qua credo perché qui mi lampeggiano vediamo acquista una postazione di lavoro in grado di seguire questa operazione ah dobbiamo andare a comprare un'altra postazione quindi come usciamo da qui non lo so così ok l'abbiamo azzeccata allora dobbiamo andare a acquistare un altro bancone vediamo quale che mi fa non mi fa acquistare nulla come mai non so allora vediamo un attimo questi sono qui che non fanno niente qua c'è la cosa ok ma qua diceva che dobbiamo acquistare acquista una postazione di lavoro ah forse la devo comprare da qua ok ora si è sbloccato ok qua banchi da lavoro e mettiamo un altro banco qui va ok abbiamo comprato un altro adesso in teoria lo ordiniamo abbiamo speso 2.805 andiamo un po' più velocemente se no questi nostri lavoratori sono instancabili lavoreranno sia di giorno che di notte vedete che adesso è buio e quindi stanno lavorando per noi è arrivato il pacchetto quindi il tipo arriverà qua a smantellare ci costruirà il nostro bancone ok a questo punto accediamo a metà di pianificazione perché dovremmo essere in grado di continuare allora vediamo un po' qua se siamo pronti non ancora che dobbiamo fare collega la postazione di lavoro ma c'è allora anche questo devo farlo ah no devo fare quell'altra poi sbagliata aspetta ah hm poi c'è un momento di che non si capisce bene ma lo devo collegare questa con questa hm allora aspetta qui non lampeggia niente qui dice attualmente quella della postazione per il legno dice che è collegata questa fosse allora non lo so non si capisce bene cosa bisogna fare qua ah ecco devo fare questo qua perché non lo peggio più allora ehm eseguiamo ok la velocità dovrebbe essere la velocità 2 allora ragazzi qui c'è stato un lavoratore che per la stanchezza è svenuto per la fatica dai non ho fatto niente ma vabbè allora ok quindi per poter rilassare i nostri lavoratori che siano un po' più tranquilli eccetera eccetera dobbiamo costruirci la sala relax questa sala relax la faremo qua in questo spazio qui e dovremmo andare a acquistare dei macchinari al momento possiamo acquistare l'espresso 2000 quindi andiamo a comprarlo mettiamo un po' più vicino alla porta così come potete vedere qua il nostro lavoratore ha una non so se si vede una pila sulla testa che è completamente scarica quindi è veramente esausto questa mano a mano grazie a queste cose che andremo a inserire in quella stanza dovrebbe ricaricarsi da rossa che adesso è rossa scarica dovrebbe piano piano aumentare diventare addirittura verde se non sbaglio comunque gialla più verde questo intanto sta lavorando ah dobbiamo però comunque ordinare giusto perché avevamo solo messo lo scheletro diciamo della nostra macchina da caffè e a questo punto lo andiamo a ordinare e dovrebbe arrivare il camion eccolo qua e ok lo mette giù dunque su muoversi però che vi ho fatto anche la cosa del caffè oh un po' più di vita ok allora come vedete già la pila è aumentata perché adesso ha la sua macchina del caffè avrà preso qualche caffè e poi qua in fondo ci dice quanto prendono questi operai allora stima di guadagno orario quindi si prendono 70 soldini all'ora questo che sta a fare ah gli scaffali perché quello lì è svenuto di brutto e non può dare una mano però questo qui è abbastanza attivo finché non schiapperà schiatterà anche loro cioè loro anche lui decora altrimenti la sala relax allora dobbiamo aggiungere delle altre cose quindi possiamo comprare scusate un attimo si è chiuso e li andiamo a comprare abbiamo il tavolo da calcetto allora vediamo questi costano 900 questo costa 500 cos'è la radio io direi di cominciare a prendere magari la radio che è quella che costa di meno di tutti questo no troppo caro la radio va mettiamogli l'altra parte la radio non si vede niente ok mettiamo una qua ok così almeno si rilassano con un po' di musica ancora devo prendere altra roba continua a scrivere poi vediamo cosa abbiamo il frigor e vabbè li prenderò questo che cos'è videogiochi oh un bel videogioco 1200 però caro questo qua ah si la macchina per gli snack dai così mangiano e si prendono un caffè ok giusto dovevamo ordinarli non l'abbiamo ordinato possiamo ordinare tutte e due la radio e quell'altro insieme così con un unico dovrebbero a questo punto essere abbastanza felici contenti visto che c'è tutta sta roba e dovrebbero lavorare meglio non dovrebbero avere svenimenti vediamo che sono molto attivi infatti insomma rimane sempre che devo decorare quante decorazioni devo dare li devo fare a questi qua abbiamo altre decorazioni ma sono tutte con l'occhetto quanto ci mettono a fare questi scaffali dunque ne abbiamo fatti 4 di 5 dovrebbe mancare l'ultimo scaffale intanto vediamo qua cosa che c'è se si è sblocato qualcosa no dai ragazzi un po' più veloci facciamo un po' più di velocità ecco allora abbiamo pronto i 5 scaffali e possiamo consegnarli finalmente ok siamo un po' troppo veloci magari non si capisce lo mettiamo alla velocità 2 e ok è appena arrivato il carico di scaffali hanno un aspetto fantastico la gente ne va pazza spero che faremo altri affari insieme in futuro pagamento ricevuto 2500 esperienza ottenuta 930 ok grazie dunque allora a questo punto qui dice sempre decora quante decorazioni devo mettere ho spenduto tutti i capitali che ho fatto per questi qua vediamo mettiamoci cosa possiamo metterci un televisore o ci andiamo a mettere i videogiochi o ci mettiamo una scacchiera mettiamoci una scacchiera va ok allora dobbiamo ovviamente sempre ordinare oh ragazzi finalmente squida il telefono e chi sarà ancora il tipo tanto sta arrivando la scacchiera dovrei essere a posto per un bel po' ti chiamo se dovessero esserci delle novità nel frattempo ti suggerisco di dare un'occhiata al mercato c'è un sacco di gente da queste parti che ha bisogno di vari tipi di prodotti a presto va bene allora ragazzi qua si è aperto il nostro mercato perché sarà diciamo il punto dove noi dovremo andare per acquistare per acquisire più che altro nuovi ordini e quindi a quel punto lì poi dovremo fabbricare farci un bel po' di soldi e riuscire ad ampliare la nostra fabbrica perché adesso praticamente non è nemmeno una fabbrica ma è un negozietto diciamo così e dovrà diventare una cosa veramente grande dove potremo poi acquisire diciamo nuovi scaffali nuove stanze eccetera e anche poi personale e tante altre cose penso vedete qua che abbiamo dei traguardi qua vediamo un po' ah si perché poi qua abbiamo in alto che praticamente ci spiega che ci fa capire che i nostri banconi si andranno incontro all'usura insomma si andranno qua lente effetto e stanza che non so che cos'è e qua che cosa mostra gli ostacoli va bene allora qua c'è la spiegazione un po' del gioco ci dice il mercato e poi avremo anche le sfide e l'informazione sui prodotti questa qui la modalità di pianificazione che è un po' complessa non lo capita molto come dopo proverò a fare altre prove poi gli impiegati ovviamente dovremo sempre andare a aumentare il numero dei nostri impiegati però da quanto vedo qua anche il livello del lavoratore più a lungo impieghi un lavoratore più risulterà efficiente e abri nella propria mansione ah ecco poi avremo gli specialisti cioè c'è veramente tantissimo da leggere poi lo leggerò con calma poi qui dovremo appunto come vi dicevo andare a ampliare la nostra fabbrica poi i nostri clienti potranno essere tanti adesso abbiamo cominciato a conoscere questo tipo qua ma poi come vedete ce ne saranno altri magari chiederanno altri tipi di prodotti vedete sono questi qua poi la nostra carriera cioè il livello di fabbrica la ricerca di sviluppo miglioramente generale la fabbrica i traguardi poi la concorrenza ecco la concorrenza sarà il nostro forse nemico questo nemesis inc mi sembra un tipo antipatico e cattivo cioè sarà proprio magari forse non tanto corretto nei nostri confronti e poi qua consigli degli esperti poi lo leggeremo come vedete comunque c'è veramente molto sembra un giochino stupido però invece è fatto molto bene c'è tanto da imparare da fare da leggere poi soprattutto da imparare allora intanto vediamo se abbiamo un nuovo contratto qualcosa questo è il mercato generico i prodotti qui mostrati sono sempre molto richiesti rappresentano quindi una fonte stabile di guadagno ok allora adesso ci lampeggia questo sacchiello credo che sia quindi in teoria lo possiamo fare ti trovi il prezzo e la domanda attuale di questo prodotto vedete quindi non è nemmeno da sottovalutare anche tutti questi grafici e queste cose che ci dice poi questi sono gli attributi da superare affinché la produzione venga accettata quindi dobbiamo avere forza e questo qui lo stile allora possiamo fare questo non potevamo farlo quanto pare ma possiamo fare la cucetta per gli animali vediamo possiamo andare si pianificare il prodotto dunque la cucetta degli animali lampeggia qui quindi facciamo così e possiamo scegliere la decorazione ok poi lampeggia qui e credo che metteremo sempre il nostro legno grezzo qua è la parte qui dovrebbe essere che ci fa vedere il bancone ok ok e qua andiamo a cliccare su questo qui che e qui a questo punto dovremmo mettere però la quantità dei prodotti questo ce l'avevano chiesti 7 di cucette quindi mettiamo 3 4 5 6 7 qua vedete ci fa vedere i materiali quanto viene a costare gli stipendi quanto ci pagheranno e quanto andremo a guadagnare perché ovviamente dobbiamo avere un guadagno e quindi eseguiamo mettiamo un po' la velocità 2 perché se no e facciamo queste cucette per i cani è arrivato il cambio è arrivata la tipa con i nostri tronchi di legno perché ci serviva appunto il legno avevamo messo di farle in legno le assi di legno e quindi vedete che i tipi sono super impegnati lavorano giorno e notte qui dice intanto clicca col pulsante adesso le posizioni dove puoi esaminare e clicchiamoci questo lavoro richiederà parecchio tempo per essere completato quindi ci metterà parecchio ok sì perché vedo che sono molto indaffarati quindi a questo punto io direi magari che vi do appuntamento per un altro episodio visto che probabilmente per farne 7 ci metteranno un bel po' intanto possiamo aumentare la velocità quindi chiuderemo qui vi invito sempre a commentare a scrivermi se vi piace questo gioco se lo volete che lo continuo a portare oppure quello che volete insomma commentate qui sotto al video e poi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace ciao a tutti ciao a tutti